Sindaco, giornata molto impegnativa anche quella odierna per trovare una soluzione per tutti i ragazzi che parteciperanno a questa 46. edizione della Coppa Interamnia. Tanto lavoro e soprattutto anche tante riunioni. Sì, stiamo proseguendo quotidianamente in questa attività di supporto logistico e organizzativo all'organizzazione della Coppa Interamnia. La questione delle scuole è ormai in via di risoluzione. Abbiamo avuto anche un'ultima riunione questa mattina con la provincia per trovare ulteriori strutture. C'è la possibilità, adesso sottoscriveremo un ulteriore atto per il Forti dove abbiamo la palestra, le aule e alcune che sono in comodato per il comune. Quindi c'è una condivisione di intervento. Ovviamente si sta lavorando in grande emergenza, sono assolutamente fiducioso che tutto si completerà in modo ottimale, quindi che non ci saranno problemi. Di certo questa prima esperienza della Coppa Interamnia da sindaco, ma in realtà l'avevo già vissuto da consigliere comunale, mi conferma il fatto che comunque bisogna cambiare radicalmente registro perché la Coppa Interamnia merita un supporto non solo logistico, istituzionale, merita un lavoro che consenta di arrivare a svolgere una manifestazione così importante per la città di Teramo in condizioni assolutamente diverse. Per il rispetto della Coppa, per il rispetto della città, dei tanti atleti, ma devo dire che ancora una volta, nonostante l'emergenza, attraverso il lavoro dell'organizzazione, di tutte le associazioni che stanno dando un supporto, della protezione civile, degli enti e delle istituzioni, comunque stiamo arrivando al risultato di uno svolgimento, un'organizzazione ottimale. Anche quest'anno ci saranno delle restrizioni per il pubblico che vorrà assistere alla Coppa? Sì, dal punto di vista organizzativo la linea sarà organizzativa da un confronto che abbiamo avuto, la stessa dello scorso anno, dovuta e dettata da ragioni di sicurezza e anche su questo fronte ovviamente siamo convinti che tutto andrà per il meglio, nell'ordine. Purtroppo, come abbiamo già visto nella scorsa edizione, qualche disagio è stato prodotto rispetto alle edizioni del passato, ma la normativa è quella e ovviamente per rispetto della sicurezza va assolutamente rispettata.